1.200 interventi dei vigili del fuoco in Italia, 235 in Sicilia, regione più colpita Palermo 0908.2017, Incendio sopra Bocca di Falco, Canale d'Inverno San Martino. Studio Camera Franco Lannino. Vant Createsite. Fint Free World Prestemesa & Plugins. . Sono stati 1.200 gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco oggi sul territorio nazionale per gli incendi boschivi e di vegetazione. Ancora una volta è la Sicilia a confermarsi come la regione in cui sono stati effettuati il maggior numero di interventi, 235. . Il Palermità 90 un considerevole numero di roghi, l'ultimo in ordine di tempoi, a ridosso della città, nell'area di Bocca di Falco. Seguono il Lazio con 226 interventi, la Calabria con 161, la Puglia con 155 e la Campania con 142. . Maggiori criticità si sono evidenziate dunque in Sicilia, diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate nell'arco dell'intera giornata anche da tre Canadair, hanno operato nel Palermitano, in provincia di Messina, ad Adrano, ct. . Sono stati 1200 gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco oggi sul territorio nazionale per gli incendi boschivi e di vegetazione. . Ancora una volta è la Sicilia a confermarsi come la regione in cui sono stati effettuati il maggior numero di interventi, 235. Seguono il Lazio con 226 interventi, la Calabria con 161, la Puglia con 155 e la Campania con 142. . Maggiori criticità si sono evidenziate dunque in Sicilia, diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate nell'arco dell'intera giornata anche da tre Canadair, hanno operato nel Palermitano, in provincia di Messina, ad Adrano, ct. . Molteplici incendi hanno interessato anche il Lazio. Nella provincia di Frosinone e di Latina, nei comuni di Sora, Arce e Vico, FR, hanno operato due Canadair. . Fronti di incendi attivi anche tra Latina e la provincia di Roma tra Subiaco, Bracciano ed Artena. Proseguono le criticità in Abruzzo dove, tra le province di Pescara e. . . Dell'Aquila, i vigili del fuoco hanno operato via terra supportati da. 5 Canadair e dall'elicottero VF Drago 52. Le zone dell'Abruzzo in cui permangono fronti di incendio sono per lo più Collelongo, AAC, e Farindola, PE, in cui. . . . L'incendio stava avanzando nel sottobosco ma è stato tenuto sotto. Controllo dalle squadre WWF. . . Ancora interventi in Calabria, nei comuni di Longobucco, Mormanno e Rose, CS, e di Ocvido Mamertina, RC, in cui hanno operato sei Canadair e un Erizon S64, in Umbria, nella provincia di Terni, dove alcuni roghi hanno minacciato la località San Zenone. . 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 Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.